Allora, prova pretzel Riuscire a mangiare 5 pretzel salati In 2 minuti, se possibile Pronti? No, stai intendo il tempo Il tempo si Pronti? Partenza Andiamo Ricordiamo che non è consentito bene L'esercito delle forchette Che non si ammette Non si ammette È l'esercito delle pugnette Che non lo ammette Che non lo ammette Che non lo ammette Cerca cibo Cerca casa Pane al pane Trova pane 50 secondi 50 secondi Un minuto Ricordiamo che i pretzel devono essere totalmente... Non si ammette Il tempo Che non lo ammette Bisogna stare qui totalmente in un sito che stiamo aspettando per la fine dell'esercito, delle forchette, qui non si ammette, qui non si ammette. Ok, tieni un minuto e cinquanta secondi, prova riuscita!